Oltre 6 milioni di euro per l'inclusione sociale destinati a persone autistiche. Nello scorso giovedì 15 giugno fino al 5 luglio prossimo sono aperti termini per l'accesso da parte degli ambiti territoriali sociali al Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità di oltre 6 milioni di euro per lo sviluppo di progettualità di integrazione scolastica ed extrascolastica destinati a persone affette da disturbi dello spettro autistico. L'assessorato al welfare della Regione Puglia in condivisione con gli ambiti territoriali sociali e il tavolo regionale sull'autismo ha previsto l'investimento delle risorse su due linee di intervento percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni anche tramite voucher progetti volti a prestare assistenza agli enti locali e anche associati tra loro per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato. L'ammontare totale delle risorse è dunque di 6 milioni e 600 mila euro ed è distribuito fra le due linee di intervento ed è ripartito tra 45 ambiti territoriali sulla base della popolazione residente. Per poter accedere alla risorsa del Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, gli ambiti interessati dovranno dimostrare l'effettiva operatività sul territorio dei servizi di integrazione scolastica delle persone disabili. A dichiararlo è proprio l'assessore regionale a welfare Rosa Barone, fondi per puntare sulla continuità del percorso educativo scolastico oltre l'orario curriculare e in contesto domiciliare e territoriale con una maggiore partecipazione dei minori e dei ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico ad attività extracurriculari, ludiche, sportive, culturali attivate a livello territoriale e poi investire sulla quantità delle ore di integrazione scolastica e sulla loro qualità oltre che sul miglioramento dei rapporti e delle sinergie tra servizi sociali scuola e ASL nell'ambito di un interesse condiviso finalizzato ad una migliore realizzazione del piano terapeutico individuale del minore affetto da disturbo dello spettro autistico.